Lavorare per un capitalismo più giusto, è questo il motto del G7 che si è aperto a Chantilly, a nord di Parigi. I ministri delle finanze e i governatori delle banche di Francia, Stati Uniti, Canada, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito cercheranno di trovare un accordo sulla tassazione internazionale delle imprese digitali. Pochi giorni fa il governo di Parigi ha introdotto una tassa per le grandi aziende digitali che operano in Francia, una decisione interpretata dal capo della Casa Bianca Donald Trump come un tentativo di sfavorire le aziende americane dal momento che le maggiori imprese che forniscono servizi digitali in Europa hanno sede proprio negli Stati Uniti. Abbiamo fatto un deciso passo incontro ai nostri amici americani accettando di negoziare una nuova tassazione globale sulle attività digitali, non solo sulle imprese digitali ma sulle attività digitali, comprese quelle fornite da aziende e di altri settori. A Chantilly c'è anche il segretario al tesoro americano Steven Mnuchin. E mentre le parti devono ancora accordarsi sulla tassa digitale, non ci sono controversi invece quando si tratta di criptovaluta, per esempio Libra, il nuovo servizio di pagamenti online di Facebook. I ministri delle finanze e le banche centrali del G7 intendono esaminare attentamente se tutte le norme vigenti vengono rispettate e se in futuro sarà necessario modificare le norme per garantire la stabilità del sistema finanziario internazionale. A margine dei lavori del G7, il governatore della Bank of England, Mark Carney, considerato uno dei principali candidati a sostituire Christine Lagarde come direttore del Fondo Monetario Internazionale, incontrerà i suoi colleghi che potrebbero fare pesare il proprio parere in sede di nomina.